In un certo senso è un giorno storico questo, perché è il primo postpartita della nuova era, dell'era Fonseca, ed è un postpartita che, vi annuncio subito, non sarà ricco di giudizi, sarà ricco di valutazioni, insomma, su quello che abbiamo visto. A proposito, grazie per essere stati con me in diretta, eravate veramente tanti ed è stato un piacere. Abbiamo visto, dunque, il Milan in questa sua priva idea di Fonseca. Il priva idea di Fonseca è stata estremamente sperimentale, per via delle tante assenze, è stata, diciamo, non particolarmente brillante, ma questo lo sapevamo già, perché noi abbiamo una preparazione, il Rapide ne ha un'altra, visto che loro iniziano di fatto già la stagione, la prossima settimana, con il preliminare di Europa League, quindi è chiaro che la condizione di differenza in alcuni momenti si è vista soprattutto nel finale. Poi, in realtà, nel corso del primo tempo, sinceramente, io ho visto una discreta gamba da parte dei nostri, proprio per essere in questa fase della preparazione. E abbiamo visto un Milan a due facce, 4-2-3-1 nel primo tempo, 4-4-2 nel secondo, con tanti cambi. Il 4-2-3-1 nel primo tempo è quello che analizzeremo di più, perché nel secondo tempo le valutazioni che si possono fare, così, per fare due chiacchiere tra di noi, sono più sui singoli rispetto alla squadra. Nel primo tempo, invece, il 4-2-3-1 di Fonseca ha disegnato già alcune idee del nostro mister. E allora, come mi han chiesto in diretta, che cosa hai visto, che cosa ti è sembrato questo Milan di Fonseca? A me è sembrata chiara l'intenzione di gestire il pallone dietro, quindi con passaggi tra i difensori centrali, tra il terzino destro, che di solito rimaneva bloccato, era Calabria, mentre Terracciano aveva un po' più di libertà nello scambiarsi la posizione contro Auret. Quindi, impostazione da dietro, con l'aiuto anche del portiere, con Mike sarà un'altra cosa, ovviamente, rispetto al buon sportiello. E poi la ricerca della velocità e della rapidità, una volta che il pallone si è fatto transitare nella metà campo avversaria. Qui abbiamo pagato la partita negativa di Colombo, abbiamo pagato le partite inconsistenti dei nostri due sterili in attacco, Traore da una parte e Ciuccoese dall'altra, mentre Liberali, che ha giocato trequartista, ha provato a fare, secondo me, quello che Fonseca gli ha chiesto. E qui veniamo alla seconda indicazione. Quindi, prima indicazione, gioco a uno o due tocchi per far arrivare rapidamente il pallone nella metà campo avversaria e cercare anche qui, con pochi passaggi, di arrivare verso la porta. Quindi un calcio che mescola il possesso che Fonseca ci ha raccontato in conferenza stampa alla verticalità, quindi alla rapidità di azione negli ultimi 30 metri. Ecco, detto questo, parlavamo del trequartista. Allora, siccome in queste settimane si è sviluppata tutta la chiacchiericcia su chi giocherà, si giocherà 4-2-3-1, si giocherà trequartista, cosa che ha sollevato anche la mia preoccupazione, che però rimane sospesa rispetto alle necessità di comprare giocatori a centrocampo, rimane sospesa perché non c'era il giocatore che, secondo me, lì potrebbe giocare, cioè Pulisic, l'unico in rosa insieme a Daniel Maldini, se vogliamo dirla, che può occupare quella posizione, che può fare quello che ha fatto un po' Liberali. Che cosa ha fatto Liberali oggi? È quello che ha rubato un pochino più l'occhio perché si è portato molto, e ve lo faccio vedere, si è portato molto un po' da tutte le parti, quindi lui andava un po' a sinistra, ma poco perché principalmente abbiamo cercato di sfruttare il lato di Ciucuese. Quindi lui si spostava molto a destra, portandosi a volte avanti, a volte indietro rispetto a Samu, per trovare quella linea di dialogo con l'esterno d'attacco, mentre il centravanti avrebbe dovuto fare dei movimenti ad aggredire la profondità, cosa che Colombo non è riuscito a fare e quindi la nostra azione offensiva si è un po' asciugata lì, in questa impossibilità di trovare i giusti meccanismi. Logico, sensato, naturale, impensabile che potesse essere diverso in questo momento, con una formazione di questo tipo. Quindi questo è un po' lo stile di gioco che abbiamo visto con Fonseca. Abbiamo visto una squadra abbastanza corta, e naturalmente su questo va a incidere anche la condizione fisica, però abbiamo visto una squadra abbastanza corta. Si vede che si sta lavorando molto sulla fase di non possesso, sulla fase difensiva, si sono anche azzardate delle cose, perché oggi abbiamo visto un Malik Chao andare a pressare molto alto, perdendo anche alcuni duelli, facendosi poi infilare un pochino nel primo tempo, quando progressivamente abbiamo preso sempre di più le misure al nostro avversario. Pertanto è vero che hanno avuto delle occasioni, ma poi abbiamo aggiustato un po' quella parte di campo dove andavamo in difficoltà. Si vede il lavoro sulla copertura preventiva dei difensori, quindi uno che va ad aiutare alle spalle l'altro, si sta cercando di lavorare anche sui tagli dei terzini, insomma in ogni caso un po' la mano di Fonseca si è vista. Restano poi i problemi legati ai giocatori che avevamo ad esempio davanti alla nostra difesa, quindi i primi due centrocampisti, Adli e Pobega. Se di Pobega sappiamo che non può assolutamente, poi era anche a piede distorto, cioè era sul centro-destra, non può assolutamente ricoprire quel ruolo, lo abbiamo visto in tantissime occasioni con Pioli, abbiamo visto come invece nel 4-3-3 in alcune circostanze possa essere in grado di dare un contributo diverso, mettiamola così. Qui siamo in presenza dell'equivoco che potrebbe nascere nel caso in cui non si prendessero dei giocatori adatti per stare lì. Poi è anche vero che ad esempio Pobega è stato utilizzato molto davanti alla difesa, quindi era lui quello che andava a aiutare davanti alla difesa, Adli restava invece un po' più avanti per cercare di dare stimolo all'inizio dell'azione. Tanti piccoli accorgimenti tattici che si sono visti, ma che ci raccontano i problemi legati al fatto che dovevi giocare con Pobega Adli, cioè questo è un po' il discorso alla fine, pertanto vedremo chi ci sarà lì. E così abbiamo chiuso il primo tempo. Nel secondo tempo c'è stata la rivoluzione, perché siamo passati a 4-4-2, perché ha giocato, c'era appunto, c'era Florenzi in mediana con Benasser. Ecco, nel secondo tempo io non vorrei entrare tanto nello specifico delle questioni tattiche, proprio perché è stato, secondo me, un secondo tempo figlio della necessità di dover in qualche modo mettere in campo questa squadra, e siccome avevi i giocatori che avevi, hai dovuto arrangiarti, cosa c'è di meglio nella vita? Nella vita, cosa c'è di meglio di un bel 4-4-2? Pulito, facile, è il modulo base, quindi meglio di quello non c'è. Naturalmente con alcuni piccoli intoppi, nel senso che Loftus faceva di fatto la seconda punta, quindi lì, seppure abbia condotto un paio di transizioni, ecco, abbiamo avuto una risposta un po' così da parte di Kalulu, che si è inceppato diverse volte, speriamo che sia un passaggio, ecco, speriamo che sia un passaggio, perché tutti abbiamo delle aspettative rispetto a Pierre, un po' meglio Tomori, e poi parlando ovviamente della necessità di dover mettere in campo in qualche modo questi ragazzi, abbiamo visto Florenzi a fianco di Benassert nei due centrocampisti, e questo ci ha prodotto tra l'altro il gol di Florenzi col suo inserimento. Abbiamo visto un buon Salemaker, molto attivo, abbiamo visto un Daniel Maldini pimpante, insomma, dai, alla fine è stata di fatto una sgambata, è stata una sgambata dove però abbiamo potuto raccogliere qualche informazione su qualche principio che poi vedremo come verrà sviluppato, perché il discorso, ad esempio, della difesa, lasciate stare il discorso del gol preso, cioè, adesso sarebbe il caso di non cominciare a dire abbiamo preso gol pure oggi, ah, ricominciamo prendendo gol, lasciamo perdere questa cosa, era un amichevole, se giocata la prima parita dell'anno, con mezza squadra fuori, lasciamo stare, non era quello l'obiettivo, noi non abbiamo visto questa partita per il risultato, per vincere, certo, avessimo vinto saremmo stati più contenti, in senso assoluto, no? Però non era quello il discorso, il discorso è che abbiamo visto una squadra che sta cercando di seguire le indicazioni del proprio allenatore, di farlo attraverso comunque un impegno, io ho visto tutti concentrati, tranne Calulu che è povero con la testa, oggi è andato un po' fuori, ma ho visto comunque i ragazzi concentrati, azzardo, azzardo, una sensazione che ho, che la condizione fisica, secondo me, maturerà abbastanza in fretta, questo può essere una buona cosa, spero che arrivi presto il contributo difensivo, perché se prendiamo Pavlovich bisogna inserirlo subito, dato che abbiamo quasi tutta la difesa a disposizione tranne Teo e Mike, bisogna inserirlo subito per il lavoro che Fonseca sta facendo sulla linea difensiva e poi per il resto, niente, ci prendiamo insomma un pomeriggio insieme al Milan che va sempre bene al di là di tutto e aspettiamo conferme o smentite o quant'altro dal mercato e dalle prossime amichevoli del Milan. Grazie a tutti.